Il piano di lancio del Nurese finora si è rivelato un flop. Dopo quattro anni di riunioni, annunci, diverse decine se non centinaia di incontri, tavoli tecnici, delibere di giunta, siamo stati convocati a firmare il terzo accordo di programma, mentre il territorio non ha ancora visto un euro dei 55 milioni promessi. Nel 2014 abbiamo chiesto un intervento straordinario per una provincia fortemente colpita da una crisi senza precedenti, ma al momento nessun intervento è stato realizzato. Quanto sottolinea in una nota Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, che già in occasione dell'incontro a Nuoro del 16 maggio ave stannato all'assessore degli affari generali della regione, Filippo Spanu, le proprie riserve sull'andamento del piano. Le delibere degli accordi di programma sono inutili se poi non si fa quanto promesso. Come Confindustria abbiamo contribuito con grande convinzione e spirito critico e costruttivo, spieghiamo fortemente che queste risorse promesse da così tanto tempo arrivino, ma siamo fuori tempo massimo, scrive Borgnoli. Un sistema amministrativo e organizzativo che non funziona, non può essere l'alibi per ciò che non si riesce a fare. I sindaci, la provincia e il parternariato economico e sociale hanno lavorato per anni presentando molti progetti interessanti su temi strategici per l'economia, come ambiente, cultura, area vasta, università, il distretto Lapidio, la banda larga. Progetti, sottolinea Borgnoli, cui la regione avrebbe dovuto dare gambe per ridare nuove prospettive al territorio. Purtroppo non c'è più tempo, ci stiamo avvicinando alla fine della legislatura e ciò che avevamo paventato si sta purtroppo verificando. Tempi eccessivi, burocrazia insostenibile, poca concretezza. A parte gli interventi per i progetti scola, avviato in tutte le province, nessun progetto approvato col piano del Nurese è stato finora concretamente finanziato, denuncia a Borgnoli. In gioco c'è la credibilità del nostro massimo organo di governo, la regione, che sembra non essere in grado di mantenere gli impegni presi. Il piano del rilancio del Nurese, conclude Borgnoli, rischia di fare la fine dei piani di filiere e sviluppo locale. Anche sui bandi per le imprese da finanziare con il piano del rilancio del Nurese c'è da avere pochissima fiducia.